Facciamo un po' di mente locale sui colori che iniziano con la F. Infatti ce ne sono diversi, anche se non tutti li conoscono. Lista di tutti i colori che iniziano con la lettera F. Fango, Fiore di Gran Turco, Fucsia, Fulvo, Fumo di Londra. Ricordiamo che ci sono anche tonalità intermedie di questi colori e adesso andremo ad esaminarli più nel dettaglio. Il color fango si qualifica come un colore per nulla scontato. Un tempo non esisteva neppure negli abiti. Il suo impiego risale principalmente dal 2011 in poi, quando si era registrata la tendenza all'incremento di questa tonalità. Dona molto alle bionde e le rosse, alle castane meno, ma potranno sfuggiarlo benissimo con i giusti abbinamenti. Il blu fiordaliso, o Fiore di Gran Turco, prende il nome dall'ononimo fiore ormai scomparso in natura a causa dei pesticidi. Il fiordaliso era un fiore semplice, senza profumo, che cresceva nei campi accanto ai papaveri. Il blu caratteristico del fiordaliso, abbinato al rosso dei papaveri, costituisce un abbinamento originale e che ha ispirato pittori, oltre che la saggezza popolare, nei modi di dire e nelle tradizioni. Fucsia è un colore che prende il proprio nome dal fiore della pianta fucsia. Fucsia è usato nello standard W3C per lo stesso colore chiamato magenta, secondo lo standard X11. Esiste anche una variante più tendente al rosso, chiamata fucsia fashion, molto usato nella moda. Dal 1 gennaio 2016, il colore albicocca e il rosso sono stati uniti in un unico colore, il fulvo. Ecco qui una carillata di colorazioni. Tutti i fulvi, dal colore bello carico, che hanno da cuccioli, si schiariscono a volte molto fino a diventare quasi color crema e spesso rimangono solo le orecchie di color scuro. Il grigio fumo di Londra è una tonalità di grigio scuro, elegante e di classe, proposto come una delle tendenze di colore autunno-inverno 2019-2020 in tessuti prettamente maschili, utilizzato per gonne larghe, abiti spessi e ampi pantaloni, perfetto per l'abbigliamento professionale, alla moda, o per realizzare caldi outfit invernali. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro sito troverete tantissimi articoli sui colori, sulla grafica e i software di design più di voga al momento. Quindi se siete interessati a approfondire l'argomento dategli pure un'occhiata oppure date un'occhiata al nostro canale YouTube dove troverete tantissimi video su questi stessi argomenti. Ci vediamo al prossimo!